Cosa ne pensate di Adani che non è stato scelto per la telecronaca della finale? Cala il gelo qui, cala il silenzio, nessuno vuole rispondere e io che sono più biscotto mi ritrovo sempre io. Puoi rispondere se vuoi? Eh? Se vuoi rispondere. Rispondite. Nella scala gerarchica del mondiale la prima coppia era stata scelta Rimedio di Gennaro, quindi la prima coppia fa la finale. Tra l'altro, credo che Alberto Rimedio venga da un europeo in cui ha saltato proprio per Covid a proposito di quello che ti parlavo, perché saltare la finale per i giocatori è brutto, ma non è che per i dettonisti sia bello, Alberto Rimedio si è perso l'Italia campione d'Europa per il Covid un anno fa e quindi avrebbe fatto al 100% la finale di questo mondiale.